L'economia riparte se ripartono i cantieri e se ripartono le infrastrutture pubbliche e su questo l'amministrazione provinciale è particolarmente impegnata. Una grande collaborazione provincia e comuni per migliorare la viabilità, per migliorare i 1200 km di arterie provinciali che insistono nei 102 comuni. Un'attenzione che la provincia vuole riservare alle nostre municipalità, soprattutto a quei comuni che hanno meno possibilità economiche. La provincia dei 102 comuni, la provincia dei comuni che si pensano assieme. L'importanza del contributo che in questo momento la provincia mi dà è per riuscire a mettere in sicurezza una provinciale per l'esecuzione di una rotatoria e per ralentare un po' il traffico su questa via che onestamente ci sono parecchi incidenti stradali. Credo che sia molto molto importante, ripeto, per ralentare un attimo quello che è la velocità delle auto e mezzi pesanti. Questo contributo permetterà l'allargamento di una curva e di un pezzo di strada che dai confini di Gazzo porta alla nuova zona industriale. Questa zona industriale che per molto tempo è stata bloccata anche per una scarsa viabilità. L'opera che è stata finanziata dalla provincia, che volevo ringraziare in particolar modo il presidente Fabio Bui per la disponibilità e per l'opportunità che ha concesso al nostro comune, è di fondamentale importanza perché va nella direzione della mobilità sostenibile e della tutela delle persone più fragili. E anche per favorire quello che sarebbe un punto di riferimento che è il turismo sostenibile e il turismo rurale, visto che negli anni sono state finanziate anche altre opere che vanno in questa direzione, in questo senso. Siamo qui oggi per la sottoscrizione dell'accordo del cofinanziamento per la realizzazione di un'opera importante a Montagnana, un'opera attesa, è una rotatoria sita in via Maceratoi, è sicuramente una rotatoria pericolosa in quanto si intrecciava con 4-5 vie addirittura, pertanto siamo riusciti con questo intervento a realizzare un'opera che mette in sicurezza. Aspettiamo un momento non più di pandemia anche per l'inaugurazione nella tarda primavera. La realizzazione di questa rotatoria nell'incrocio fra due strade provinciali, l'SP100 e l'SP91, è un'opera attesa ormai da tanto tempo, è un punto in cui si sono verificati parecchi incidenti stradali e quindi bisognava mettere mano a questa opera, a questa messa in sicurezza dell'incrocio che era ormai diventato pericoloso. Alla luce anche del fatto che è allo studio ormai la realizzazione della nuova SR10 che avrà uno svincolo proprio sull'SP91 e quindi rappresenta un ulteriore messa in sicurezza di un'opera che era ormai esigibile.